Con rinnovata fiducia ed esaltata dal dominio di Verona, la fortitude è tornata ad allenarsi al completo per iniziare a preparare il prossimo impegno ufficiale previsto per lunedì 19 al Paladozza contro Imola in un derby tra due delle squadre più in ascesa del momento. Quattro le vittorie consecutive per i bianco-blu apparsi davvero granitici nelle ultime due uscite, le più impegnative, contro avversarie di altissima classifica. Ristabilite le gerarchie senza più la tensione del turno over settimanale, la consulta investe è riuscita a ritrovare rapidamente equilibri che non più tardi di 20 giorni fa, con la scoppola di Iesi, sembravano molto complessi da raggiungere. E invece, a nove giornate dal termine della stagione regolare, la fortitude è rimasta pressoché sola con Trieste a giocarsi il primato in vista dei play-off. Sensibili e palesi, miglioramenti di un gruppo che beneficia della leadership dei suoi giocatori più esperti, tutti capaci di attendere il proprio turno per poi emergere nel modo e nel momento più opportuno. Un gruppo vero, in altre parole, concetto ribadito anche nel corso della presentazione della final eight di Copitalia LNP, che si disputerà a Fabriano e Iesi dal 2 al 4 marzo prossimi. La fortitudo, che per l'occasione sarà griffata a lavoro più, era rappresentata dal presidente Cristian Pavani e dal suo capitano Stefano Mancinelli, che ha confermato l'indispensabilità del lavoro del collettivo per provare a tagliare il traguardo della promozione in Serie A. Una fortitudo che dovrà fare a meno ancora per un mese circa del suo timoniere Matteo Bonicciolli, sottoposto presso la clinica Villalba, come da programma, ad intervento chirurgico di otorinolaringoiatria alle vie respiratorie nasali.